E siamo lo sport e il calcio, calcio mercato che riguarda il Pescara perché il club ha ufficializzato la prima operazione in entrata. È arrivato infatti l'attaccante Michael De Marchi, classe 1994, 27 anni da compiere lo scorso anno la Virtus Verona in Serie C, 10 presenze ed un gol. Eccolo qui, una intervista di repertorio, questi sono alcuni dei gol realizzati con la maglia del Limolese dove ha fatto benissimo nel 2018-2019, 10 gol con Alessio Dionisi, allenatore, campionato di Serie C, fu la rivelazione limolese che si classificò al terzo posto al termine della stagione. Dunque Michael De Marchi che tra l'altro era di proprietà della cittadella, contratto scaduto, fine contratto e quindi acquisito, acquistato, ingaggiato per meglio dire dalla Pescara. Le sue caratteristiche, prima di parlare un po' più nel dettaglio della sua carriera, è una seconda punta che può agire nel 3-4-3, dovrebbe agire, usiamo il condizionale quanto mai di rigore nel 3-4-3 di Gaetano Oteri, neo allenatore del Pescara, da riferimento centrale. Un attaccante tecnico che attacca molto lo spazio, giocatore molto alto, anche prestante dal punto di vista fisico. Dicevamo della sua carriera che è molto particolare perché ha giocato nei primi anni in eccellenza, nel 2016 viene visionato, viene adocchiato per così dire dal Carpi, campionato di Serie B, allenatore Fabrizio Castori, aveva già 22 anni, lui è veronese, giocava in eccellenza nel Cerea. Poi dopo i primi sei mesi in Serie B, sette presenza nel Carpi, stagione 2016-2017, ripetiamo, allenatore Fabrizio Castori, esperienze in Cicol Prato, poi Correggese in D, vince il campionato con la Virtus Verona, gennaio-giugno 2018 con quattro reti. Naturalmente si fa notare da Limolese che lo acquista 10 gol, come vi dicevamo poc'anzi nel 2018-2019 in Serie C, allenatore Alessio Dionisi. Poi il Cittadella con Marchetti che va spesso a pescare nelle categorie inferiori. 17 partite, di cui 5 soltanto da titolare. Non è stata una stagione molto fortunata. Lo scorso anno, la prima giornata del campionato di Serie C, purtroppo un infortunio alla spalla. L'operazione, un infortunio completamente superato, lo diciamo da subito ai tifosi che sono in visione d'ascolto, da De Marchi che rientrerà nella parte finale e tra poco vedremo il gol che consentirà alla Virtus Verona di centrare i play-off. Era una delle ultime giornate, l'ultimo campionato di Serie C. Eccolo qui, a fermo, in pieno recupero, il suo diagonale che non lascia scampo al portiere della fermana. Questi è Michael De Marchi. Per quanto riguarda invece le altre trattative, siamo in dirittura d'arrivo per Zappella, esterno destro, classe 1998 di proprietà dell'Empoli, ex Cesena lo scorso anno, 18 presenze in Serie C. Anche per Ianes, difensore centrale, classe 97, ultima stagione e mezza nell'Avellino, ma di proprietà della Fiorentina che chiede SEC, giovane attaccante promettente della primavera, si è messo in luce nella primavera di Iervese, classe 2004. Si parla anche di Pompetti, pescherese ed hoc, cresciuto nel Pescara, di proprietà dell'Inter. Lo scorso anno si è messo in evidenza nella Cavese, era stato preso proprio da Pavone, che poi ha cambiato squadra, è andato alla Juve Stabia, credeva molto in questo ragazzo, ha fatto molto bene Pompetti, si parla anche di lui, però è un regista come ruolo. Quindi vedremo se le cose andranno così. La prima operazione ufficializzata dal Pescara, ripetiamo, l'attaccante Michael De Marchi, classe 94.